come ha visto la partita? ho visto una partita dove il Borgo Sandonnino all'intervallo si trova 2-2 senza che gli avversari riuscissero a produrre un'azione da gioco, questo potrebbe diventare un problema ma dobbiamo trovare la soluzione perché questo non accada perché per il primo tempo che è stato dovevamo essere sicuramente in vantaggio, così non è stato nel secondo tempo però questi ragazzi qua hanno messo in campo una voglia di vincere anche dopo una volta rimasti in 10, hanno trovato il pareggio ma noi volevamo vincere e abbiamo vinto anche perché abbiamo fatto questi due giorni dopo la sconfitta di Omega scorsa dove la partita l'abbiamo persa ma c'è stato qualcosa che ci ha lasciato un po' una mare in bocca, parlo di un gol annullato, parlo di un rigore non dato, noi domenica non abbiamo detto nulla perché abbiamo perso quindi abbiamo raccolto le cose e siamo venuti a casa, oggi però dovevamo riscattare una sconfitta che secondo noi non ci stava e oggi questi ragazzi qua quando poi sono feriti poi reagiscono così come agli ultimi 10 minuti che in uno in meno abbiamo fatto due gol, quindi ho visto una squadra che vuole vincere le partite. Perfetto, grazie. Grazie, ciao.